Ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in Via Emilia 2. Tra pochissimi giorni si festeggia il Carnevale. Questo sarà proprio il weekend di Carnevale. È una festa che le piace e che festeggia oppure no? No, mi piace però non la festeggio molto. Magari vado in oratorio, do una mano, faccio aiuto.